La ricca Europa deve affrontare l'emergenza migranti, parola di Angela Merkel. Dopo aver sospeso gli accordi di Dublino, aprendo di fatto i confini tedeschi a migliaia di cittadini siriani, la cancelliera mette la questione dell'accoglienza al centro del summit sui Balcani occidentali, in corso a Vienna. Distribuiremo il carico in modo equo, ha aggiunto il capo del governo di Berlino. In tutto il mondo il numero di rifugiati non è mai stato così alto dalla seconda guerra mondiale a oggi. Noi in Europa siamo riusciti a vivere insieme in pace, abbiamo anche reso irreversibile il processo di pace nei Balcani occidentali. È nostro dovere ora fare in modo che la pace ritorni nelle rispettive regioni, ma la nostra storia ci insegna anche che è importante aiutare le persone le cui vite sono in pericolo e dare loro protezione. Alle porte dell'Europa ci sono 20 milioni di rifugiati di diversi conflitti in cerca di sicurezza, secondo i dati della Commissione europea, Bruxelles proporrà entro la fine dell'anno un meccanismo permanente con quote per la ripartizione di richiedenti asilo in caso di emergenze.